Salve, mi chiamo Antonio e sono un nuovo studente di Andrea Di Giglio. Volevo dire due parole sui suoi corsi. Io sono tre anni che diciamo sono nel mondo della panificazione, così mi diletto, sono un dilettante, non un professionista, però è una mia passione. E quindi ho già fatto anche altri corsi su pizza napoletana e quindi con impastamenti, ma questo corso secondo me, l'ho visto quasi all'inizio, è fatto molto bene, è spiegato molto bene da Andrea e io che avevo qualche dubbio, qualche perplessità anche sulla gestione del lievito madre e comunque in qualche fase del processo dei grandi lievitati, ho già avuto subito un risultato eccezionale, già nel primo test. Diciamo che un corso di questo tipo con delle risposte immediate nel momento in cui hai bisogno, secondo me sono rari, molto rari, anche per i costi onestamente abbastanza limitati. E quindi penso che andrò avanti con l'upgrade sicuramente di questo grandi lievitati e consiglio a tutti per chi si avvicina per la prima volta, per chi è già anche esperto, questi corsi sono veramente fatti molto ma molto bene. Andrea è veramente molto bravo a spiegare in maniera molto semplice ma dando le nozioni diciamo importanti e che alle volte sono non dico nascoste ma insomma non proprio così chiare dagli altri chef, insomma dagli altri grandi grandi chef che si reputano tali sulla rete. Quindi un grande consiglio di seguire questi corsi che sono veramente fatti molto bene. Bocca al lupo, saluti, ciao!